Senatore Renato Schifani, a Mazzara, 25 anni di Forza Italia, cosa significa? Significa esserci sempre, guardare al futuro, al passato, ricordando come abbiamo cambiato il Paese, le nostre riforme, le nostre grandi battaglie di libertà. Abbiamo cambiato grandi, grandi, grandi momenti del nostro Paese che soffrivano. Guardiamo al dopo. Forza Italia è in grande salute, la discesa in campo di Berlusconi ne è la prova. Adesso siamo però chiamati tutti alla mobilitazione, non soltanto per un grande risultato dell'elezione europea, ma anche per far cadere questo governo pieno di contraddizioni, frutto di un'alleanza anomale da tipica, per la quale pagheranno il prezzo gli italiani. Per andare verso dove? Per andare verso dove? Per noi siamo fondatori del centrodestra. Berlusconi ha fondato il centrodestra, ne rimane il grande stratega. Rivendichiamo la nostra identità e chiediamo ripetutamente alla Lega di ripensarci, anche perché sta tradendo, secondo noi, quella grande parte di elettorato che crede nella riduzione della pressione fiscale, crede nelle grandi riforme e che invece questo governo non sta attuando perché è condizionato dal Movimento 5 Stelle che è un movimento antidemocrazia, antidemocratico, demagogico, che ha promesso un reddito di cittadinanza del quale il mezzogiorno non ha bisogno. Il mezzogiorno ha bisogno di lavoro, di occupazione vera, non di sussidi di Stato. Oltre alle europee ci saranno anche le amministrative, in particolare lei si trova qui a Mazzarra del Vallo, dove a maggio si voterà per le amministrative. Forse tale sarà presente, ovviamente? Ovviamente sarà presente e sicuramente tutto il centro-destra sarà unito alle prossime amministrative, come sarà unito alle prossime regionali della Sardegna, del Piemonte, della Basilicata, dell'Abruzzo, dove siamo dati per favoriti. L'anomalia che stiamo vivendo è questa, il centro-destra a livello territoriale e amministrativo è unito e vince e vincerà. A livello nazionale questa anomalia, questa diaspora del centro-destra speriamo sia soltanto provvisoria, anche perché mi risulta che l'elettorato del nord della Lega, quell'elettorato che crede nel rilancio delle economie, negli investimenti, nel rilancio delle infrastrutture, comincia a essere deluso dall'azione della Lega che è troppo condizionata. Ultimo condizionamento, lo stop alle trivelle imposto dal Movimento 5 Stelle alla Lega. Noi siamo per lo sviluppo, non per lo sfruttamento, ma per lo sviluppo, per attrarre capitale e investimenti industriali. Con lo stop, con il no, con la politica dei no a tutto, la politica del no alla TAV, la politica del no alle trivelle, la politica del no alla crescita industriale, il Paese muore e noi vorremmo invece evitare e salvarlo. E per questo siamo qui, mobilitati a rilanciare Forza Italia, a rilanciare la nostra voce e fare in modo che il centro-destra possa tornare al più presto nella sua unità nazionale, visto che è riuscito a fare grandi cose in passato. 25 anni fa nasceva Forza Italia, oggi questa festa a Mazzara? Forza Italia è cresciuta, questo è sicuro, abbiamo 25 anni, ne abbiamo viste di tutti i colori, sia positive che negative, ci hanno dato per morti tante volte e tante volte siamo regolarmente ritornati a essere protagonisti come lo siamo oggi. La discesa in campo nuovamente di Silvio Berlusconi per noi è un'emozione, e quindi affronteremo le prossime europee con una voglia di fare straordinaria. Ne è la dimostrazione di tutta questa gente che c'è qua oggi a Mazzara, ma abbiamo mandato, ho mandato poco fa al coordinamento nazionale, le fotografie di tutte le città siciliane che stanno festeggiando così come qui a Mazzara. Io ho voluto venire qui anche per affetto nei confronti di Tony Scilla, che è un mio grande amico e quindi ho voluto essere qua, ma in tutta la Sicilia, in tutte le città, però adesso ci sono manifestazioni come queste. Vuol dire che ci siamo, vuol dire che siamo tornati protagonisti, abbiamo vinto la regione, abbiamo vinto Catania, abbiamo vinto una marea di comuni, non succedeva più da tempo, vuol dire che siamo tornati. Le elezioni amministrative a Mazzara, Forza Italia sarà presente con un proprio candidato? Guarda, ne abbiamo appena parlato, avuto un incontro prima di venire qui col coordinatore Scilla e con altre persone e credo che siamo a buon punto. Coordinatore Scilla, 25 anni di Forza Italia qui si festeggia oggi a Mazzara. Sì, è un'andata storica, non è un punto di arrivo, è una ripartenza, un nuovo corso, Forza Italia c'è, ci sarà, il paese ha ancora tanto bisogno delle nostre politiche liberali, liberiste e quindi oggi siamo contenti. Io sono orgoglioso davvero di avere il partito, lo Stato Maggiore del partito, non solo Gianfranco ma tutti gli altri, i deputati nazionali, c'è presente Schifani, i deputati regionali, i assessori. Oggi Forza Italia dimostra che è una realtà, una realtà importante che deve essere da cerniera per un certo mondo per lottare contro un populismo stupido che non dà prospettiva, che non dà futuro. Quindi oggi noi siamo qui a Mazzara, nella mia città, tra le mie gente, col mio partito, cosa vuole dire più della vita? Stiamo lavorando per anche la candidatura, ci mancherebbe, di una città strategica importante, qual è Mazzara del Vallo che per certi temi di integrazione, di interculturalità è un tema importante, siamo qui. Mazzara che è una città che per integrazione non è seconda a nessuno e oggi ne parleremo nel nostro dibattito che abbiamo come partito. È uno dei motivi per cui siamo venuti qui a festeggiare i 25 anni del partito. Siamo orgogliosi della nostra storia, soltanto chi ha una storia può pensare di scrivere un futuro. L'ha detto il Presidente Berlusconi, io sono contento, guarda, è convinto che le europee saranno un motivo di dimostrare che la gente comunque comprende e sono sicuro che il mio partito e la mia provincia farà la propria parte per fare in modo di riconfermare quantomeno i due euro parlamentari. Perché avere due euro parlamentari a Bruxelles dove si stabiliscono le strategie per i temi fondamentali, quale possono essere la pesca, l'agricoltura, l'economia vera, per noi è importante. Abbiamo un e donno, il Presidente sa come lavorare, nel 2017 ha avuto la capacità di creare quella coalizione che ha portato Musumeci a governare la regione, sta lavorando bene, lasciato lavorare, vedrete che anche per quanto riguarda le europee avremo ottimi risultati. Oggi sembra, io non voglio dire che, comunque vedo che la gente ancora una volta risponde e quindi, ripeto, sappiamo che non è facile, che ci sono difficoltà, ma pensiamo di avere gli strumenti giusti di Gianfranco e gli uomini giusti, le donne giuste per ridare credibilità a un Paese che oggi è in difficoltà. Quello che stiamo costruendo con l'area moderata, con gli alleati di governo, con il Presidente Musumeci, per governare la Sicilia per davvero, non guardare agli errori del passato, costruire un equilibrio di sviluppo e di prospettiva e presentarlo ai siciliani che lo sapranno apprezzare. Dalla Sicilia arriviamo intanto a Mazzarri del Vallo, questo progetto amministrativo siciliano da trasferire, si dice, a Mazzarri del Vallo per le prossime amministrative. Beh, e che c'è di male? Si parte dal centrodestra, si parte dalla coalizione che sostiene il governo Musumeci, si metterà d'accordo, l'Udc diventerà bellissima forza etaria e poi si guarderà ad un'apertura a tutte quelle forze che si vogliono riconoscere in un progetto di crescita di questa città. Sono tante e noi vogliamo confrontarci con tutti. Nulla è deciso, nullo appartiene ai partiti, tutto appartiene alla città di Mazzarri del Vallo. La sintesi politica con tutti la troveremo. Avete già detto qualche candidato sindaco? No, sono la persona meno indicata perché non sono mazzarese. E se fosse mazzarese? Se fossi mazzarese avrei cercato una persona in condizioni di governare questa città e di dare una prospettiva in sinergia con il governo regionale, questo è quello che faremo. Se abbiamo battuto a penale proviamo a fare un volo da Mazzarri del Vallo o dalla Sicilia in Europa. Per quale futuro? Ma si può pensare all'Italia senza Europa, alla Sicilia o a Mazzarri del Vallo senza Europa? Chi pensa questo è fuori dal mondo, cura gli interessi elettorali, non guarda la prospettiva del paese e ci lascia, come dire, senza una vera prospettiva di pace e di sviluppo. Non credo che questa politica appartenga a noi. Gaetan Almau, vicepresidente della regione, occorre ricordarlo, Forza Italia ha 25 anni, al governo in questo momento alla regione siciliana, anche se il presidente Musumeci ha parlato di un rimpasto a breve. Il governo è impegnato in questo momento nelle misure finanziarie, legge di bilancio, legge di stabilità. In settimana comincia l'esame da lunedì dei documenti finanziari, contiamo di approvare senza un nuovo esercizio provvisorio entro gennaio, il che sarebbe un fatto certamente con precedenti che risalgono a tanti tanti anni fa. Quindi comincia a vedersi un nuovo verso nella nostra regione, che purtroppo abbiamo trovato, io faccio sempre il riferimento a una macchina, non una macchina spenta che bastava riaccendere e far partire, una macchina con il motore fuso, i copertoni sgonfi, i finestrini rotti, quindi abbiamo dovuto rimettere in piedi una macchina veramente stressata che adesso sta partendo e comincia a dare i primi risultati. Il 1000% in più della spesa europea è un elemento. Poi sì, c'è qualche elemento in giunta che il Presidente ha annunciato di voler sostituire, ma si tratta di una cosa che farà il Presidente a brevissimo termine. La scommessa più grande in questo primo anno e mezzo di governo sembra essere stata la politica dei rifiuti, insomma. Il rifiuti è una delle tante cose lasciate e abbandonate a se stesse. Oggi, lo diceva un giornale regionale, noi passiamo circa il 70-80% del nostro tempo a occuparci di problemi che vengono direttamente dall'abbandono nel quale abbiamo trovato la nostra regione siciliana. I 2 miliardi e 134 milioni di disavanzo, cui dobbiamo far fronte, che stiamo affrontando negli interessi siciliani, grazie a un accordo che abbiamo concluso qualche settimana fa con lo Stato, che ci consente di sparmarlo in 30 anni, ma comunque con un peso gravissimo sul bilancio e sulla capacità di spesa della regione, è un esempio emblematico. Potrei parlare di tante altre cose, delle società miste, della formazione, tantissimi settori abbandonati a se stessi. Stanno ricominciando a partire e l'impegno è che entro un anno e mezzo massimo ci sarà una regione che funziona al meglio. Ecco, in vista delle europee e del voto amministrativo, che vede tra l'altro Mazzara protagonista, Forza Italia in Sicilia, come si impegnerà? Io, voi sapete, sono legatissimo a Mazzara per aver lavorato qui con tanti sindaci quando ero un libero cittadino e un professionista, quindi per me Mazzara è molto importante, per noi e Mazzara, per il governo Mazzara è importante, è una città strategica nel settore del pesce, nel settore del turismo, nel settore dell'agricoltura, e quindi su questi settori il governo sta investendo in modo molto massiccio. La campagna elettorale che si apre per l'europea è una campagna elettorale molto chiara. I nostri elettori dovranno scegliere, i nostri concittadini dovranno scegliere se tuffarsi nell'incertezza del sovranismo, del populismo, che abbiamo visto i disastri che ha fatto con la Brexit nel Regno Unito o in altre aree dell'Europa, o invece puntare ad un'Europa che è l'elemento essenziale di un periodo straordinario, sono 70 anni senza guerre, senza conflitti. Molti giovani che oggi pensano che bisogna smantellare l'Europa non ricordano che per centinaia di anni l'Europa è stata periodicamente attraversata da guerre e da conflitti devastanti e disastrosi. L'Europa ci ha dato la pace, ci ha dato il progresso, pur con momenti difficili e da rivedere, perché è un'Europa da riformare, ma è una nave nella quale possiamo puntare al futuro. E forza Italia per essere liberi, e forza Italia per fare e per crescere, e forza Italia c'è il grande orgoglio in noi di appartenere a te, ad una gente che... rinasce con noi... Nell'altra storia un'altra storia c'è, la scriveremo noi con te. E' forza Italia! E' tempo di credere, dai forza Italia! Che siamo tantissimi, e abbiamo tutti un fuoco dentro il cuore, Un cuore grande che, sincero e libero, batte forte per te, forza Italia con noi, forza Italia con noi. L'Italia è il paese che amo. Con queste parole, 25 anni fa, mi rivolsi agli italiani per chiedere di unirsi a me, per salvare l'Italia da un grave pericolo e costruire per tutti un futuro di benessere e di libertà. Allora scesi in campo per evitare che il paese cadesse nelle mani di una sinistra ancora comunista. Oggi quella sinistra non esiste più, ma il mio senso di responsabilità mi induce ancora una volta a scendere in campo per le prossime elezioni europee, perché di nuovo il nostro paese corre un pericolo molto grave. Il Movimento 5 Stelle è una forza politica certamente moderna nell'uso degli strumenti di comunicazione, ma vecchissima nelle idee, nei contenuti, nelle proposte. Nei loro programmi e nei loro discorsi c'è il peggio del Novecento. Sono contro l'economia di mercato, contro le infrastrutture, contro la democrazia parlamentare. Sono contro lo Stato di diritto, contro le nostre garanzie di giustizia e di libertà, ed hanno addirittura trasformato da feroci giustizialisti quali sono la presunzione di innocenza, che ci è garantita dalla Costituzione, in presunzione di colpevolezza. Per questo credo che l'appello di allora sia drammaticamente attuale anche oggi. Dissi allora, chiedo di scendere in campo anche a voi, a voi tutti, ora, subito, prima che sia troppo tardi, per una società libera dove non ci sia la paura, dove al posto dell'invidia sociale e dell'odio di classe, stiano la generosità, la solidarietà, l'amore per il lavoro e il rispetto per la vita. Questo è il mio sogno e il mio progetto. Questo è quello per cui ho lavorato per 25 anni. Ma è ancora il futuro che voglio per il nostro Paese. Con qualche anno in più, con molta più esperienza, con molte più relazioni internazionali, ma con la stessa determinazione e lo stesso entusiasmo di allora, io torno in campo perché il mio senso di responsabilità me lo impone, perché il Paese che amo lo merita, gli italiani lo meritano, i nostri figli lo meritano. La prospettiva di un'Europa diversa e migliore, nella quale l'Italia svolga un ruolo da protagonista, è una scommessa che non possiamo perdere, e alla quale, con l'autorevolezza di cui ancora godo nel Partito Popolare Europeo e in Europa, sono pronto a dedicarmi con tutto il mio impegno. È un imperativo che mi viene dal profondo del cuore. Per questo vi dico ancora, dopo 25 anni dalla prima volta, forza Italia, forza Europa, viva l'Italia! Grazie!